ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video voglio mostrarvi come completare una delle sfide della seconda settimana della stagione 4 di fortnite capitolo 2 una sfida molto semplice e veloce potete farla in qualsiasi modalità vi chiede di prendere un motoscafo e guidare sotto tre differenti ponti colorati ci sono diversi ponti da scegliere quindi la scelta è vostra il mio consiglio è quello di partire da qua perché qui trovate praticamente un motoscafo e nelle vicinanze bene o male vi è il primo ponte colorato adesso vi mostro la posizione di tutti e tre i ponti quindi prendo il motoscafo mi dirigo al primo ponte e poi vi mostro la posizione della mappa sui restanti due ponti ovviamente questa è una mia scelta ma potete anche modificarla perché vi bastano tre ponti l'ordine è indifferente quindi scendete qua a questo laghetto qui qua vedete prendete il motoscafo lo trovate praticamente sempre e andate verso il primo ponte dovete diciamo passare sotto tre ponti colorati quindi non confondetevi con ad esempio questo perché non è un ponte colorato i ponti colorati sono quelli che hanno delle impalcature quindi non potete sbagliarvi tipo dei supporti di metallo colorati non so come definirli però insomma adesso vi rendo l'idea faccio schifo a guidare lo so qui c'è il primo ponte vedete il primo dei tre ponti colorati quindi dovete passare sotto questo ponte e altri e due adesso vi mostro ovviamente la posizione sulla mappa dei restanti ponti eccomi al secondo ponte sono praticamente vicino alla posizione di partenza eccolo qua adesso vi mostro anche il ponte sulla mappa vedete sono qua il primo ponte era questo il secondo era questo adesso vediamo il terzo e ultimo ponte il terzo e ultimo ponte si trova praticamente qui su vedete questo è il ponte sono partito dal laghetto sono arrivato giù sono salito su ho fatto tutto il giro e sono uscito di qua questo è il terzo e ultimo ponte colorato quindi in una sola partita potete tranquillamente completare la sfida